Ancora da Ecomedica, ma questa volta con il professor dottore Massimiliano Febbi andiamo a fare una cosa un po' diversa. E ci spostiamo più avanti, questa intervista la trovate su runes.it, l'avete rivista anche su altri siti interi, tra cui quello dell'Eco Maratona del Chianti, che ricordo sarà prossimo 20 di ottobre. Siamo a Castelnuovo Berardenga in provincia di Siena, qui vedete sotto in questo momento il sito internet scorrere per prendere tutte le informazioni. Allora, usciamo per un attimo Massimiliano dalle corse su strada, dalle classiche maratone, pensiamo alla Maratona di Roma, alla Maratona di Firenze, alla Maratona di New York, alla Maratona di Berlino, ce ne sono ovviamente, c'è Londra, c'è l'imbarazzo della scelta, non c'è una città in Italia ormai e neanche nel mondo che non ci sia un maratone delle classiche a distanza dei 42 km, ma negli ultimi anni c'è una bella moda, la voglia del podista del running medio di correre sia l'eco maratone, quindi correre nel verde, sia correre i trail, magari con terreni un po' più impegnativi. Magari io sono un semplice lavoratore impiegato che magari tutto il giorno sto a sedere, cose del genere. Si pensa che affrontare una gara in pianura sia uguale come affrontare una gara magari con dei saliscendi o soprattutto delle strade dove i nostri appoggi sono leggermente diversi. Un consiglio che Massimiliano può dare in questo caso. Come affrontare in questo caso queste gare? Come ci si prepara? Anche se la cosa sarebbe lunga ovviamente da raccontare, però cerchiamo di fare una sintesi. Allora, bisogna partire dal presupposto che come tutte le gare va preparata in modo disciplinato, quindi bisogna prendere confidenza progressiva con quella che sarà la superficie sulla quale si effettuerà la gara. Molti pensano che correre sul morbido in alcune situazioni sia meno stressante rispetto a correre su strada. Questo purtroppo non è vero, anzi spesso e volentieri la preparazione fisica deve essere più accurata rispetto a correre una maratona normale. Per fare un esempio, quello che si dovrebbe iniziare ad utilizzare sono delle tipologie d'esercizio dove il disequilibrio sia una componente importante dell'esercizio stesso, quindi dove il nostro apparato propriocettivo si allena a tutte quelle tecniche di correzioni del movimento nel quale possiamo andare incontro in una corsa su superficie non stabile. Quindi questa dovrebbe essere una delle basi fondamentali per questo tipo di discorso. Per quanto riguarda il resto, un lavoro di forza di base è fondamentale perché le strutture verranno sicuramente sollecitate in modo superiore rispetto a una corsa su strada che sì, dove la superficie è rigida ma dove le strutture non devono sopportare determinati tipi di incombenze che possono accadere con l'imprevisto del terreno che non troviamo al di sotto del piede nel momento nel quale ce lo aspettiamo. È lì che si rischia la maggior parte delle volte l'infortunio. Facciamo un esempio pratico. L'ecomoratona del Chianti che in questo momento vogliamo introdurre è una distanza ovviamente di 42 km, non ci sono salite ripidissime però ci sono il 90% e passa di strade bianche in dei punti si corre in mezzo alle vigne, in dei posti in mezzo ai boschi però insomma sempre senza pericoli diciamo così dove bisogna stare attenti come si dice in gergo dove mettiamo i piedi ovviamente con sali scendi, con tini, qualche scalinata eccetera eccetera. Il primo consiglio lo hai dato prima. In questi casi durante la gara sento che magari le gambe mi vanno un po' giù che tipo di allenamenti devi fare in questo caso? Allora l'allenamento ripeto deve essere più funzionale e specifico possibile per la prestazione che andiamo a effettuare quindi sicuramente un lavoro di ripetute, un lavoro di cambi di direzione o di variazioni di intensità sul terreno tipico dove andiamo a effettuare la maratona è fondamentale. Per quanto riguarda la preparazione a secco, termine a secco non piace però la preparazione che si può effettuare in palestra con degli esercizi similari sicuramente deve essere improntata su aumentare la forza negli arti inferiori ma aumentare la forza col giusto grado del controllo quindi tutte quelle esercitazioni di squat, affondi che vengono effettuate solitamente effettuarle su delle superfici instabili che ci diano quel leggero grado di instabilità sicuramente ci danno dei vantaggi che possiamo ritrovare poi nella prestazione di gara. Ma in questo caso, ripeto sempre, in questo caso un eco maratona ma potrei scegliere un'area di trail di 20 km con tanta salita e tanta discesa devo lavorare più sulla forza o sull'elestricità o su tutte e due? Calcolando che la forza e l'elestricità da sole non esistono come comparto ma fanno parte dello stesso comparto lavorare con la forza giusta con gli esercizi al massimo del range of motion cioè della capacità articolare lavorare su mezzi movimenti non dà mai dei grandi risultati per quanto riguarda poi la trasduzione cioè trasformare in movimento finale da competizione tutto quello che abbiamo accumulato con la preparazione fisica quindi scegliere movimenti più similari possibili a quello che vado a effettuare in gara e svolgerli al massimo della capacità articolare per cercare di mantenere quella flessibilità che poi ci mantiene da eventuali infortuni Ti chiedo due esempi Allora, io sono un ragazzo che ha 35-40 anni, ha sempre fatto corsa su strada domani si può dedicare a un tipo di gara in questa maniera Io sono una ragazza di 35-40 anni che ha sempre fatto gare su strada voglio domani dedicarmi a una gara del genere Da dove inizio? Sia come maschietto e sia come donna Allora, la prima cosa da valutare che è fondamentale per la corsa è la mobilità delle caviglie La mobilità delle caviglie spesso si dice che è fisiologica o genetica ma altrosì non è che la capacità dei muscoli di mantenere il controllo in determinati archi del movimento Quindi dovremo scegliere tutte quelle attività che ci consentono di migliorare questa capacità come ad esempio gli affondi, gli esercizi di squat tutte quelle esercitazioni dove anche a carico naturale io posso migliorare il controllo del mio corpo e questi tipi di esercitazioni anche a corpo libero potrebbero essere inserite due volte a settimana per ottenere i risultati corretti e quegli adattamenti cronici che mi danno dei grandi vantaggi L'allenamento fra uomo e donna tendenzialmente non cambia molto nella preparazione fisica Sicuramente variano quando iniziamo a utilizzare i sovraccarichi perché sappiamo che le donne fisiologicamente amministrano dei sovraccarichi minori rispetto all'uomo e anche nella scelta degli esercizi fondamentali perché la donna tende a soffrire più di problematiche di ginocchio rispetto all'uomo quindi tutti quei problemi che possono essere correlati a delle problematiche di infortunio per i legamenti crociati perché la donna parte da un presupposto biomeccanico che tende a favorire questo tipo di infortuni quindi tutte quelle esercitazioni svolte con gli affondi, con lo squat in situazioni di desequilibrio danno un'ottima prevenzione a infortuni e sono delle situazioni nelle quali le donne dovrebbero insistere addirittura di più rispetto ai maschietti nella preparazione fisica Ottimi consigli, mi permetto di andare avanti Allora abbiamo detto ovviamente, ci hai dato dei consigli prima di una gara del genere da un'ecomaratona a gare di trail di 20 km, 25 km, quello può essere dopo la gara, spesso e ventiè la tua esperienza, che cosa ti dice, che cosa ti insegna ad oggi o meno a quello che hai visto nella pratica io esco da un ecomaratona con qualche acciacchetto o esco da un trail con qualche acciacchetto i primi giorni della settimana o i primi giorni dopo aver corso, che cosa devo fare? Allora, cosa fondamentale è la fase di rigenerazione, cioè quella fase di recupero attivo che non deve essere obbligatoriamente passivo nella quale io do possibilità al mio corpo di rigenerarsi anche perché il carico di allenamento che ha sostenuto durante una maratona è elevato la seconda cosa che dovrei fare è ripristinare la flessibilità di determinati muscoli che sono stati sottoposti a stress spesso e volentieri si sbaglia e si pensa che lo stretching sia un'esercitazione da svolgere esclusivamente prima delle competizioni ormai la ricerca scientifica ci ha dimostrato che lo stretching forzato, passivo, prima delle competizioni dà una deflessione netta della performance fisica quindi lo stretching dovrebbe essere effettuato come allenamento a parte di condizionamento non integrandolo né prima soprattutto delle prestazioni o utilizzarlo moderatamente dopo le prestazioni fisiche tolto questo anche delle attività correlate di rigenerazione che non facciano parte del mondo della corsa o che siano affini come dell'attività in piscina di defedicamento oppure dell'attività normale di altre discipline sportive può dare una mano a smaltire quelli che sono gli stress psicofisici accumulati durante la competizione e riportarci poi a fare i nostri volumi di allenamento nel modo migliore possibile cercando di evitare infortuni per il futuro Bene, grazie a Massimiliano per tutti i preziosi consigli, abbiamo detto di grazie anche all'Ecomaratona dei Chianti che tornerà ripeto il prossimo 20 d'ottobre, ovviamente questi consigli vanno bene anche per altre gare e non solo grazie a Massimiliano per i preziosi consigli, grazie di averci seguiti, alla prossima competizione